Con un programma completo di tre giorni, dallo scorso 20 maggio sin al 22 dello stesso mese si è tenuto presso l'Hard Rock Hotel, l'IMS, acronimo di International Music Summit. Al suo ottavo anno, il festival si è imposto come uno dei più grandi eventi del mondo, sulla stessa linea di quelli tenuti ad Amsterdam e a Miami. Questa edizione ha avuto il cartello, un ricco calendario di dibattiti interessanti e coinvolgenti, conferenze e interviste, e ha evidenziato i problemi che affriggono il settore del DJing, del clubbing in questo momento. La Kermess ancora una volta ha fornito una piattaforma per molte voci del settore della musica elettronica, durante la tre giorni sono stati messi in evidenza particolari anche dal fondatore di SoundCloud, Alexander Young, che è stato intervistato da Pit Tong. Il DJ di Radio One ha intervistato anche il patron di Ultra Recon, Patrick Mox, e la box di Deathmix, Judy Weinstein. I temi della manifestazione di quest'anno sono stati accuratamente scelti per evidenziare le questioni che incidono direttamente sui professionisti che lavorano nel settore del clubbing, del DJing e della discografia. Il dibattito del festival ha messo in discussione importanti aspetti burocratici dell'industria musicale internazionale. A tutto si sono aggiunti gli ormai leggendari eventi Dead al Villa, con i DJ set di Solomon, Lussiano e tanti altri, che hanno offerto un'opportunità unica all'interno di un sito che è patrimonio mondiale dell'UNESCO.